Giorno 448. Molte notizie di oggi vengono dalla direzione di Bakhmut. Dopo il successo dell'operazione ucraina di sblocco nella regione di Chomove, gli ucraini hanno cominciato a usare l'autostrada per consegnare rifornimenti direttamente in città. Ciò ha messo i bastoni tra le ruote alla Wagner in quanto ha fatto inasprire la resistenza ucraina. Prigojin aveva annunciato che avrebbe lasciato Bakhmut il 10 di maggio e in un primo momento il Ministero della Difesa aveva fatto credere che le richieste della Wagner sarebbero state soddisfatte. Ma il 9 maggio Prigojin ha ricevuto una lettera dal Ministero che intimava al mantenere le proprie posizioni o venire processati per tradimento. Vedendo i fianchi collassare come previsto, Prigojin ha compreso che il rischio di essere bloccati in una sacca era in aumento. Quindi il nuovo piano è diventato quello di prendere Bakhmut il prima possibile a dispetto delle perdite, potendo quindi dichiarare che la sua parte del lavoro era stata compiuta e per porter poi trasferire la responsabilità della regione alle truppe aviotrasportate e scappare dall'imminente calderone. Ecco perché alla luce di una resistenza rinnovata dovuta all'aver ricevuto nuovi rifornimenti, la Wagner si è concentrata sulla parte esterna della città per cercare di tagliare le linee logistiche. Gli ultimi rapporti indicano che i russi sono riusciti ad avanzare e sono solo una strada di distanza dalla via di rifornimento, rendendola inutilizzabile. Per quanto riguarda la cittadella, le posizioni principali ucraine si trovano nell'ultimo blocco di fortificazioni. Questo sviluppo era inevitabile in quanto immagini recenti mostrano come i russi abbiano demolito le posizioni di fuoco che impedivano loro di entrare nella cittadella. Diverse ore fa, Prigojin ha riportato che le sue forze non saranno in grado di accerchiare gli ucraine e saranno quindi costretti a prendere la città strada per strada. Ancora una volta ha colto l'occasione di addossare la colpa a Gerasimov per il collasso dei fianchi e l'impossibilità di prendere per fame gli ucraine. E oggi è stato confermato che gli ucraine hanno fatto collassare ulteriormente i fianchi. Dopo essersi raggruppati e consolidato le nuove posizioni nella foresta, gli ucraine hanno lanciato diversi attacchi in direzione di Klischivka. Diversi video dei combattimenti mostrano distaccamenti d'assalto impegnati in operazioni di pulizia e attacco. La terza brigata d'assalto ha mostrato come un loro carro abbia minato le difese russe nella linea di alberi e fatto saltare in aria il deposito munizioni. Un altro video mostra un'unità d'assalto mentre si sta preparando ad attaccare le posizioni russe, quando il comandante comincia a sospettare che i russi abbiano scoperto la loro posizione, essendo il primo colpo d'artiglieria troppo preciso. La rapida reazione ha messo in salvo l'intera unità mentre il secondo colpo d'artiglieria colpiva il rifugio oramai vuoto. Un combattente della ventiquattresima brigata d'assalto ha riportato che la loro avanzata era stata troppo repentina e si sono ritrovati con unità russe che sparavano loro alle spalle. Hanno tuttavia deciso di non ritirarsi, richiesto supporto alla brigata presidenziale e continuato ad andare avanti. Questo impeto ha portato diverse truppe russe ad abbandonare le proprie posizioni e a ritirarsi lungo la linea di alberi. Ironicamente, secondo i rapporti dal fronte, questo ha aumentato le perdite in quanto sono stati quasi totalmente eliminati dall'artiglieria, mentre se si fossero semplicemente aresi le loro possibilità di sopravvivenza sarebbero state certe. A causa di questo errore di valutazione i russi hanno perso 80 soldati. Data la corrente situazione, il prossimo passo logico sarebbe attaccare Klishivka e molti soldati ucraini sono al momento impegnati in operazioni di preparazione. Il più grande ostacolo è la rete di trincee piuttosto estesa sulla collina a nord dell'insediamento, ma alla volta catturata i russi dovranno ritirarsi non solo dal villaggio nella pianura ma anche dai campi di fronte a Opitne. Se siete contro l'invasione dell'Ukraine e volete supportare il nostro lavoro, potete fare acquisti nel nostro negozio ufficiale. Qui potete trovare numerosi prodotti riportanti simboli ucraini per mostrare il vostro supporto al canale e per l'Ukraine. Potete trovare il link in descrizione. Grazie per l'ascolto, anche per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video.